Diversi innesti già fatti ma la rosa è ancora incompleta, si aprirà una settimana di nuovo importante sul fronte mercato per il Pescara con delle priorità ben delineate, difesa e attacco. Anche Massimodo, dopo l'amichevole del San Paolo è stato chiaro, servono due difensori centrali. Si è complicata e tanto la pista che portava l'italo-nigeriano Caleb Okoli, giovane del 2001 di proprietà dell'Atalanta, una strada che sembrava in discesa ma nella quale si è inserita di prepotenza la SPAL che ha effettuato il sorpasso sul Delfino. Okoli sarebbe stato un profilo interessante ma comunque un debuttante tra i pro dopo tanta primavera. Il Pescara cerca i difensori che siano delle certezze, ecco perché si è puntato ad un obiettivo come Salvatore Bocchetti, cugino del dirigente biancazzurro Antonio. Dipenderà dalla volontà del giocatore che nonostante i 34 anni e per via delle tante stagioni in Russia si è creato un mercato all'estero e le proposte non mancano per il difensore che è in scadenza giugno 2021 col Verona. Difficilissimo arrivare a Capuano e Craince del Frosinone. Il presidente Sebastiani ha smentito l'interesse per De Angella che resta comunque un profilo da monitorare perché piace ad Oddo. Ieri i dirigenti biancazzurri hanno chiesto al Benevento due difensori che non rientrano nei piani di Serie A degli Stregoni ed entrambi in scadenza il prossimo giugno, Alessandro Tuia e Lucantei. Quest'ultimo, peraltro, è reduce da un intervento al crociato del ginocchio sinistro, andrebbe aspettato per qualche settimana. I buoni rapporti tra i presidenti Sebastiani e Vigorito potrebbero agevolare la trattativa anche se Tuia ha diverse proposte dalla cadetteria. Da alcuni media argentini poi viene rilanciata la notizia di un'offerta del Pescara per il centrale classe 99 Agustin Dattola dell'almirante Brown, club di terza serie argentina. Sul fronte attacco, particolarmente complicata, resta la ricerca di un centro avanti. Con Tutino destinato alla Sayanitana resta Federico Dionisi il principale obiettivo del presidente Sebastiani. Ma, come già riportato nei giorni scorsi, l'ingaggio alto e la necessità di un indennizzo del Frosinone complicano i piani e la società spera in un abbassamento delle pretese su ambo i fronti con il passare dei giorni, anche se c'è la lezione dell'ultimo mercato di gennaio, quando l'attesa per l'occasione non ha portato alcun centro avanti al Delfino. Sempre a proposito di Benevento, resta piuttosto complessa, se non improbabile, la pista Moncini. In attesa di una svolta, le prossime ore dovrebbero portare all'ufficializzazione di due innesti, quello della mezzala Fabio Maestro in prestito dalla Lazio e quello dell'attaccante Cristian Capone dall'Atalanta. Per lui un ritorno.